Io prendo un caffè, di canna, 3 e mezzo. Ma te lo metto qua bene, te lo scusami. Che è il biglietto che mi fai fare? Guarda, mia sorella sei. No, ma c'è anche Antonella, vero? Mi vuole un caffè. Allora scusami. Ma che tu lo vuoi di canna? Normale uno. Programmatore di Java, di Java. Ci sembra che amareggiava. Ma no, non so che diventavo proprio una persona di Java. Ma tu stai con la mani in Java? No, devo fare il forno. Ti fai fare un altro corso da un miliardo. Te l'ho detto, no? Ecco, è reggita. Allora, è reggita. E' una vita così brutta. E' reggita. E' un brindisì. E' un brindisì. Eh no, io non voglio vedere la frangia. Scusa, eh. Adesso lo riprendiamo così. Questo è l'amico. Il fratello. Come faccio? C'è solo cappelli. Che cugina It, c'è solo cappelli. C'è, cos'è quello della famiglia Adam? Che si vede lo so che c'è... Ah, è così. Cugino It. Una sola volta. Poi non la vediamo. Io sono tutte le cose che sono cappelli e non la vedo così. Ah, brava, così. Brava, bravi. No, Dio ti sono... Dai, togli le mani. Sì, sì. Eeeh... Eeeh... Ho preso gusto. Gira Ilaria? No, no. Certo, poi... E qui di bot mi son girato. Cogliugino russo. No. Chi coniugino russo? Che buf. Gira, gira, gira. Gira, gira. Gira, gira. Gira, gira. Compare? Compare? Sì, sì. La mia... No, no. Sempre... Non ci lasceremo mai. No, no. Ci sono anche di fare. La mia... Riprende è un filario. Sì, forse... Perché... Nonna... Sì. La mia... Sì, la mia... Non è andata quella slincia. Sì, la mia... E... Non manco... Sì, la mia... La mia... Sì, la mia... La zia è compiuta con il migliore. A vedere se c'è ancora. Ci siamo anche andati. No, 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 no. il 4 settembre abbiamo uno che ce la guarda e ci fa però l'abbiamo pagato fino a gennaio, febbraio non so se adesso ha continuato a dare a dare l'erba comunque le cento di altri guardi che ci ha fatto e guardate chi è stile che sono accorto giusi guardami se no che ti riprendo a fare ecco basta non esageriamo ce la riprendiamo a te zitta che vieni tossica la nonna dalla regione come raccomandata? no non lo so magari è quella ma te tol'o ma te tol'o ma te tol'o